Finisce la prima semi-piste dell'Under 18 Elite, tra le basse di Terbo 7524, coach Jacopo Martongeli oggi per l'occasione, capo allenatore, Jacopo complimenti anzitutto, il primo obiettivo dell'anno alla fine regionale arriva. Sì, è arrivata, era un momento che attendevamo da settembre e le ragazze sono state bravissime perché comunque nonostante l'assenza di Amedeo, che è una persona che riesce a trasmettere sempre molte ragazze, stanno partire subito forti, indirizzando già dal primo quarto la partita per tutti i 40 minuti. Domani o Elite o Bull stanno facendo riscaldamento alle nostre spalle, Elite, Bull o Stella chiaramente, squadre affrontate e riaffrontate durante l'anno che conosciamo a memoria, sensazioni per domani? No, sensazioni per ora nessuna, quindi vediamo perché sono due buonissime squadre, sono due squadre in grande forma in questo periodo, lo vediamo sia dai campionati giovanili alle 16, anche dai campionati senior come la Serie B, quindi quella da adesso sarà davvero una bella partita e poi starò oggi, domani penseremo alla nostra finale. Grazie Jacopo, a domani. Grazie a tutti.